Per quanto riguarda il nuovo Cosenza dico che in questo momento forse è la squadra più in forma, però noi non siamo da meno. Come dicevo prima, togliendo la desperta di Messina dove abbiamo perso per episodi, ce la siamo giocati con tutti. A maggior ragione oggi che abbiamo la possibilità di andare a raggiungere la zona playoff, ce la andremo a giocare alla grande a Messina, a Cosenza come abbiamo fatto a Messina, abbiamo fatto con l'Interregio, abbiamo fatto a Trano e le altre desperte. Quindi sicuramente se c'è qualcuno che ha qualcosa da perdere, domenica è il Cosenza, perché il Cosenza si sta giocando il primo posto in classifica che sente a tre punti con l'Interregio. Noi andiamo là, ci andiamo a fare la nostra gara, cercando di fare un risultato importante perché se noi prendiamo punti a Cosenza significa che vincendo le due gare in casa possiamo ambire a una posizione di playoff e diventa una cosa bellissima per quanto riguarda quello che è stato fatto dall'arco di questo girone di ritorno. Perché non dimentichiamoci che oggi noi da battipaia oggi abbiamo fatto Cosenza e Nero ben 28 punti, 28 punti in 15 partite e sono tanti. Quindi siamo là, ce la giochiamo. Se nelle restanti 15 ce ne avessimo fatto anche 28 oggi saremmo in destra. Grazie a tutti.